Ciao Anime Rock, un saluto dal vostro Bruco. Eccomi qua a raccontare qualcosa rispetto al percorso che abbiamo scelto per la promozione dei nuovi brani. Ebbene sì, in questi mesi non ci siamo fermati, abbiamo continuato a scrivere e non vediamo l'ora di farvi ascoltare quelli che sono i nuovi brani, che sono anche un po' particolari e in alcuni casi anche un po' sperimentali. Però voglio dire che c'è una cosa, l'importante novità. Non saranno distribuiti su nessuna piattaforma digitale, quindi non li troverete su Spotify, su Apple Music e nemmeno su YouTube. E quindi come fare per ascoltarli? Beh, dovete seguire quello che è un po' il nostro percorso e quello che abbiamo pensato appunto per la promozione. La cosa più importante è essere iscritti alla newsletter, quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi alla newsletter e se lo avete fatto, magari conoscete qualcuno che vuole seguire gli SOS, a cui piacciono gli SOS o è solo incuriosito, ditegli di iscriversi, perché sarà una cosa molto importante. Vi ricordo che è disponibile sul nostro sito, la sezione Store, il calendario del 2021, insieme a tutti gli altri gadget e CD, le magliette, eccetera, eccetera. E quindi il percorso che abbiamo pensato per la promozione dei brani si concluderà, partirà a dicembre e si concluderà alla fine di gennaio con un evento molto particolare. Ok, vi aspetto sui nostri profili Facebook, Instagram oppure sul sito e vi mando un grande abbraccio rock e state, mi raccomando, bene.